Di loro non si hanno più notizie da martedì della scorsa settimana, da quando sono usciti di casa per assistere probabilmente ad un concerto, senza farvi più ritorno. Si tratta di 16 e 17 anni, Marianna Carmagnola e Marco Benedetto, rispettivamente di Altamura e Gioia del Colle. Carabinire e polizia sono sulle loro tracce dal 9 settembre scorso, dopo la denuncia di scomparsa presentata dai loro genitori. Un silenzio che dura da troppo tempo quello dei due minorenni e che ha spinto i familiari a divulgare le loro fotografie, chiedendo aiuto agli organi di informazione e a chiunque possa fornire elementi utili alle ricerche. Il giorno della scomparsa, il ragazzo indossava un bermuda con catene laterali ed una maglietta nera con un teschio. È alto 1,75 m circa, occhi castani, capelli scuri rasati lateralmente con una cresta rossa centrale. Ha un piercing sulle labbra e dilatatore ai lobi e al momento del suo allontanamento indossava uno zaino verde con bratelle nere. Nessuna indicazione invece sull'abbigliamento della ragazza. I suoi genitori non l'hanno vista uscire di casa perché si trovavano al lavoro. L'ultimo ad averli sentiti telefonicamente nella giornata di martedì è stato il padre del 17enne. I due giovani erano diretti a Doria, in provincia di Brindisi, per assistere ad un concerto. Da allora i loro cellulari risultano spenti. Non è escluso che si tratti di un allontanamento volontario, anche se al momento gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi.